Non è la prima flag questa? No, non è la prima flag e ci sta andando la 7. Come voi li vedete un po'... Warpar gli elicotteri? Oh cazzo! Enemy chopper in fronte di noi. Sì! Can you drop, 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 drop? Di là! Di là, di là! Di là! Di là! Di là! Ci ha dropato a sud ovest! Sì sì sicuramente, guardate all'anno Alla strada Alla strada Ho tirato una granata Niente tirato la granata Ehm, bravo lettera da tu! Io sparavo! Qualcuno spara, gli altri tirano gradati! Questo era intenso! Ehm, credo che c'è ancora un uomo, almeno un uomo, un uomo, ha scelto un rocket a me, quindi... Oh, è sotto, è sotto, è sotto, as soon as he shot you, ho chiamato! Oh, buon lavoro! Ehm, riparare e poi portare i supplies! Capito! Ci provano, eh! Vedi perchè io non amo le AS con gli elicotteri, perchè subito ci provano a lasciarti! S***!